Buon pomeriggio, buon giovedì a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Linea Diretta. Intanto, prima di presentarvi il primo ospite, vi ricordo i nostri numeri di telefono. Per contattarci in diretta, lo vedete in sovraimpressione, 055-8946-444, per inviarci messaggi, sms o whatsapp, 366-4313-1000. Intanto ringrazio il professor Alessandro Natali per essere qui con noi. Nel secondo spazio parleremo invece di pensioni e dintorni, insieme a Massimo Falorni di CGL. Ora invece ci consentiamo, visto che il professor Natali, andrologo, ce l'aveva promesso, mi sembra da una telefonata del nostro telespettatore, di parlare di prostatiti. Intanto prostatiti ha un infisso, un IT, 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 IT. Brava, hai imparato, è la lezione. Il suffisso IT, IT, in medicina vuol dire infiammazione. Quindi gastrite, colite, bronchite, polmonite e prostatite. Quindi è come stiamo parlando, come la nostra regia ci sta facendo vedere, della prostata. Qui ci stanno facendo vedere, ovviamente, degli schemi di una prostata normale, di una prostata ingrossata per l'ipertrofia prostatica benigna. Non trattiamo oggi questo argomento, ma trattiamo l'argomento dell'infiammazione di questa prostata. Infatti, ecco, le prostatite sono quindi delle infiammazioni. È un aspetto infiammatorio. E come la nostra regia ci sta facendo vedere, l'infiammazione della prostata, di questo organo, che è un po' uno snodo ferroviario, io lo definisco, perché è la prostata situata sotto la vescica e all'inizio dell'uretra, cioè di quel canale che porta fuori l'urina e lo sperma, essendo uno snodo ferroviario, come tutti gli snodi ferroviari, ha tanti binari che ci arrivano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la prostata, proprio per questa sua posizione, è estremamente soggetta a tutta una serie di infezioni barra infiammazioni che possano venire dall'esterno, quindi attraverso l'uretra, e parliamo delle cosiddette infezioni eventualmente sessualmente trasmesse, che nelle donne possono dare la cistite, ma nell'uomo danno prima la prostatite, perché la prostata si trova, come si vede, prima della vescica, se un'infezione viene dall'esterno. Però bisogna precisare anche una cosa, che la prostata è situata di fronte al retto, difatti non per niente per fare la cosiddetta esplorazione della prostata, dobbiamo fare l'esplorazione rettale. E questa posizione di fronte al retto è un altro elemento assolutamente da non sottovalutare, perché tutte quelle patologie che riguardano l'ultimo tratto dell'apparato intestinale, quindi il retto, faccio per ricordare qualche patologia, come può essere l'emorroidi, le proctiti, cioè l'infiammazione dell'ultimo tratto del canale digerente, si ripercuotono per contiguità sulla prostata. Ecco quindi che anche un intestino non adeguatamente irregolare, e parlo di stitichezza, diarrea, alterazioni, come vengono definite, dell'alvo, possono ripercuotersi in senso negativo sulla prostata. Quindi, come lei può capire, questa ghiandola si può infiammare per tanti, tanti motivi. Per tante cause. Assolutamente tante cause. Ecco, quando è infiammata, quali sono i segnali che ci dà? Ecco, questa è un'altra bella domanda, perché a volte ci dà dei segnali specifici, che sono rappresentati dal classico, magari, bruciore a urinare, bruciore all'eiaculazione, aumentata frequenza urinaria, cioè quei sintomi che noi definiamo delle basse vie urinarie. Ma altre volte non dà disturbi di questo genere, e dà una sorta di discomfort, come viene definito, pelvico. Difatti, non per niente, gli autori anglosazzoni parlano di mal di testa pelvico, per quello che riguarda i disturbi della prostata, un po' come per le donne, a volte, che hanno quei problemi, diciamo, a livello pelvico, di discomfort, dolore, legati magari a situazioni anche di natura strettamente ginecologica, infettivo, infiammatoria. Ecco, nell'uomo, diciamo, il cosiddetto mal di testa pelvico degli autori anglosassoni, si può estrinsecare con un discomfort nell'area pelvica, magari anche sotto al cavallo dei pantaloni, tra i testicoli e lano, di modo che spesso i pazienti non riescono neanche a identificare per bene questo problema, e il compito dello specialista è individuarlo, mi spiego, perché spesso e volentieri i pazienti non riescono a dire che cosa hanno, stanno male, stanno male, magari nell'area pelvica, però non riescono a descriverlo, questo malessere. E allora ecco che è compito dello specialista con delle domande ben specifiche, ovviamente tirare fuori il problema, perché non dimentichiamoci che la prostatite è il primo motivo al mondo, e le ribadisco, il primo motivo al mondo per cui viene consultato un urologo. Quindi un urologo o un uroandrologo non viene consultato per problemi tumorali o chissà che cosa. Al primo posto c'è le prostatite, quindi lei può ben capire come siano frequenti, e poi diano delle ripercussioni anche sulla vita sociale dei pazienti, e anche questo è molto importante capirlo, perché ovviamente uno che sta male, perché purtroppo i pazienti con la prostatite hanno disturbi che durano mesi, anni, soprattutto se non vengono diagnosticati e individuati all'inizio, che danno dei problemi proprio anche non solo nella vita, diciamo così, di relazione, nella vita sessuale, perché ovviamente tutto questo si può ripercuotere in problematiche nella spera sessuale, ma anche nella vita lavorativa e di tutti i giorni, mi spiego. Per cui è una patologia molto molto delicata, che spesso è sottovalutata anche da noi urologi stessi, diciamo, che crea notevolissimi problemi ai nostri ammalati. Prendiamo la telefonata, poi le chiederò se è grave come patologia. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Sono Renzo, chiamo da Prato, volevo parlare con il professor Natale di cortesia. Prego. Allora, io sono stato operato tre anni fa a distestomia, tutto l'ha messo in connesso e lo conosce bene. Insomma, la cittoscopia è sopportatore permanente di cateteri. I primi anni mi hanno dato molto fastidio perché ho avuto riflessioni di infezioni primarie, e ho preso antibiotici e così via. E' vero, sempre positivo, o frequentemente positivo, per i batteri. In ogni caso, col tempo, sono riuscito a vari modi a abbattare questa infezione che è a cento, mila. Per questo va bene. In ogni caso, c'è ancora di un'altra cosa, l'origine di questa infezione che è frequente nella questione che hanno avuto quest'operazione. Ecco, una supposizione, una curiosità. Io penso che sia l'urina che ristagna nei cateteri che provoca questa prolificazione di batteri. E quindi, non si può dire, non sono i cateteri in se stessi che sono inerti. Credo che sia questo che è cosa mi pensa. Grazie. Buonasera, buonasera. Allora, dunque... Questa è la considerazione del nostro telespettatore, una situazione piuttosto complessa. Una situazione molto particolare. Il nostro telespettatore è stato sottoposto a cistettomia, che vuol dire asportazione della vescica e della prostata, come vediamo, che le strutture che vediamo ci ha inviato la regia, e molto probabilmente per un aspetto tumorale. In questi casi, ovviamente, ci sono le cosiddette derivazioni urinarie che, interpretando quello che ci ha detto il nostro paziente, sono i cosiddetti sacchetti delle urine, dove praticamente i due ureteri sono stati abboccati alla cute. In questo caso, si ha l'uretero-cutaneo-ostomia. Ecco, in questi, diciamo, negli ureteri abboccati alla cute, ovviamente, per tenere beante il lume dell'uretere e per mettere la raccolta delle urine in questi sacchetti, vengono applicati dei cateterini ureterali che periodicamente dal personale sanitario vengono rimossi e sostituiti. Purtroppo, il discorso dell'infezione è l'aspetto, la complicanza più frequente. E il nostro telespettatore ha detto una cosa parzialmente vera, dicendo che le infezioni sono determinate dal ristagno delle urine e non dai cateterini. I cateterini, ovviamente, sono sterili quando vengono cambiati, non certo procurano infezione. Però, il concetto quale è? Che per mettere questi cateteri ovviamente bisogna passare dall'astomia cutanea e sull'acute inevitabilmente ci sono germi. Quindi, se i cateteri funzionano normalmente purtroppo l'infezione viene dall'acute esterna. Ecco perché i pazienti che hanno queste stomie devono avere un'igiene estremamente accurata ed una pulizia estremamente accurata della loro stomia. diciamo. Torniamo alla prostatite. È una patologia grave? Allora, dunque, grave intesa nel senso come si dice a Firenze che si more? No, è un si more prostatite. Però, il problema è che è un gran rottorio di scatole se mi passa il termine non scientifico. diceva insomma anche vita sociale lavorativa insomma vita sociale lavorativa vita sessuale cioè chi ha la prostatite se dei nostri telespettatori ci stanno ad ascoltare e hanno avuto la prostatite sanno di che cosa si tratta. Quali esami si devono fare? Allora, il concetto quale è? Prima di tutto ovviamente bisogna rivolgersi quando si ha i disturbi della prostatite cioè disturbi delle basse vie urinarie come abbiamo detto oppure un discomfort dell'area pelvica e quant'altro il mio consiglio è di rivolgersi subito a uno specialista magari parlarne con il medico di base certamente però qual è il problema? Che nella stragrande maggioranza dei casi a volte dal medico di base altre volte anche da magari uno specialista non molto esperto nel settore si incomincia subito dando così d'amblè degli antibiotici a babbo morto come si sol dire e non c'è di peggio da questo punto di vista perché non per niente quando parlavo della prostatite e ho dicevo che è un aspetto infettivo infiammatorio nel senso che ci può essere che ci siano dei germi che dall'esterno o dall'interno abbiamo detto abbiano colonizzato a livello della prostata ma nella stragrande maggioranza dei casi gli esami culturali quindi per rispondere alla sua domanda che sono l'urinocultura e la spermiocultura per andare a vedere se ci sono germi in questi liquidi biologici risultano negativi cioè non c'è germi e allora che cos'è? non è un'infezione ma un'infiammazione perché su questa prostata snodo ferroviario come l'ho definito è la qualità della vita scadente che può determinare uno stato infiammatorio e per qualità della vita scadente da questo punto di vista mi riferisco all'alimentazione quello che si mangia quello che si beve lo stress alcol caffè sostanze d'abuso mi spiego quindi l'intestino come abbiamo detto magari non regolare quindi ecco perché l'affrontare d'amblè con degli antibiotici senza sapere con chi abbiamo a che fare è assolutamente scorretto perché prima di tutto nella stragrande maggioranza dei casi non servono assolutamente a niente primo secondo soprattutto utilizzando così degli antibiotici senza sapere se ci sono o meno dei germi quindi con un antibiogramma specifico si creano le cosiddette resistenze batteriche che creano problema sul problema quindi ecco perché quando uno ha dei disturbi di questo genere rivolgersi a uno specialista che è l'urologo o l'uroandrologo che di base saprà quali sono gli accertamenti da fare pronto buon pomeriggio da dove chiama buonasera mi chiamo da Empoli c'è un'informazione al professor Natale prego è mio marito che quando va in bagno a minare non può farlo tutto la spettamente ti attiene a metà insomma quanti anni ha suo marito signora ha quasi 60 anni 59 59 bene perfetto bene buonasera allora rispondiamo alla nostra precisa telespettatrice che ci chiede come mai il marito prossimo al giro di boa dei 60 anni quando va a urinare non si sente completamente svuotato verissimilmente tenendo conto dell'età del paziente perché una cosa che non ho detto è che la prostatite si è un aspetto infiammatorio della prostata può colpire un po' l'uomo in tutta la fascia di età dai 20 ai 70 anni diciamo però è più frequente che si abbia nella fascia tra i 30 magari e i 50 anni a 60 anni e mi riferisco quindi al marito della nostra telespettatrice verissimilmente ci troviamo più che altro di fronte all'ipertrofia prostatica benigna quindi all'ingrossamento della prostata legato all'età quindi consiglio alla nostra telespettatrice di dire al suo marito di parlarne con il proprio medico curante che ovviamente attiverà tutti gli elementi diagnostici e terapeutici del caso abbiamo un messaggio che in realtà non la riguarda direttamente quello successivo sì mentre questo è un po' un appunto a noi ripropongo il messaggio che inviai tempo fa con umile richiesta scrivo da Prato seguo con grande attenzione la trasmissione faccio i complimenti sia ai conduttori che ai medici e ai professionisti eccetera però essendo donna consiglio di invitare anche ginecologhe ostetiche endocrinologhe qualche volta perché argomenti da trattare ce ne sarebbero a milioni siamo già alla quinta puntata dedicata a sola maschietti grazie Sara lo faremo lo faremo assolutamente Sara ha perfettamente ragione esatto lo faremo invece c'è un altro messaggio da Simone MJ vorrei sapere quale alto esame ematico suggerisce per rilevare il testosterone nel maschio oltre a quello libero ematico allora dunque domanda molto precisa tecnica allora più che il testosterone libero ematico voglio chiarire il nostro telespettatore è sicuramente un esperto però per chi magari per noi insomma per tutti noi di che cosa si tratta allora il concetto è questo il testosterone è un ormone estremamente importante per noi uomini che circola nel nostro sangue in varie forme una forma cosiddetta libera che è quella biologicamente attiva ed una forma invece legata alle proteine che gli fanno da vettore come si suol dire quindi per rispondere al nostro telespettatore il per calcolare il testosterone realmente presente nella nostro organismo utile per le cose che fa non è tanto di importante rilevare il testosterone libero con direttamente dal sangue ma rilevare il testosterone totale e la sex hormone binding globulin che è quella proteina che veicola il testosterone e poi con una formula lo specialista si ricava la quota di testosterone biologicamente attivo questo è il modo corretto per stabilire la quota reale di testosterone libero cioè quello biologicamente attivo nel nostro organismo beh abbiamo risposto a questo nostro telespettatore come si curano le prostatite ecco allora prima di tutto come penso i nostri telespettatori hanno capito gli esami culturali la visita ovviamente oroandrologica un'eventuale ecografia eventualmente della vescica e della prostata per vedere l'entità del problema sono la l'abc dell'armamentario diagnostico dell'uroandrologo poi però bisogna ecco perché è importante l'anamnesi e parlare con il paziente che ha la prostatite perché ovviamente se ha tutte quelle problematiche di cattiva qualità di vita bisogna spiegargli che le deve assolutamente cambiare detto questo poi se gli esami culturali risultano positivi con l'antipiogramma si evidenziano dei germi diciamo degli antibiotici specifici per quei determinati germi utilizzare quegli antibiotici se necessari se no nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di utilizzare farmaci antinfiammatori decongestionanti di origine essenzialmente naturale oggi la nutraceutica da questo punto di vista è estremamente utile per sfiammare la prostata pronto? e buonasera buonasera professore Natale buonasera complimenti per la trasmissione grazie signora senta professore io vorrei chiederle una cosa a volte si dà indicazioni nella prescrizione del rapporto del PSA totale su quello libero sia del PSA veloce che benzi ti vorrei che cortesemente ci chiarissi un attimino che tipo di informazioni ci possono dare richiedere questo tipo particolare di esami ok benissimo perfetto grazie buonasera oggi abbiamo dei super esperti davvero ci sono delle domande precisissime la nostra telespettatrice ci chiede lumi su il PSA allora prima di tutto chiariamo che cos'è il PSA il PSA è un marcatore d'organo come ogni buon studente di medicina che sostiene l'esame con il professor Natali deve sapere ai 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 cosa vuol dire marcatore d'organo cioè una sostanza presente nel sangue che ci permette di dire se la prostata gode buona o cattiva salute detto questo poi esistono delle subunità o delle cosiddette variazioni sul tema del PSA come la nostra telespettatrice ci ha detto PSA velocity PSA density il PSA rate PSA libero che però sono aspetti che riguardano più che altro lo specialista diciamo nel senso che qualora c'è un'alterazione del PSA che c'è un numero diciamo normalmente il PSA non deve superare come numero i 4 nanogrammi ml qualora magari a due esami del PSA fatti abbastanza ravvicinati si riscontrasse un valore abnorme del PSA allora ecco che entrano in gioco questi altri valori che servono più che altro allo specialista per capire se l'aumento del PSA può essere legato mettiamo a un aspetto infiammatorio della prostata un ingrossamento legato all'età o ci può essere il sospetto di un aspetto tumorale della prostata pronto? pronto? buon pomeriggio da dove ci sta chiamando? diamo tempo magari non hanno abbassato il volume del televisore professore si prego allora io sono stato operato come ho detto e mi hanno solto anche la prostata tuttavia in due anni devo fare degli esami per vedere il PSA è sempre regolare ma come mai mi fanno fare questo esame ok si allora mi scusi lei è stato operato di prostata ingrossata ipertrofica no immagino no 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 quello di prima ma hanno fatto tutto cittoscopia quello di prima che ha telefonato prima ah ok ecco si perché stavamo parlando di un'altra cosa d'accordo va bene perché continuano a fargli fare allora verisimilmente bisognerebbe sapere la storia di questo paziente ovviamente verisimilmente se gli viene continuato ad essere richiesto il PSA una volta che uno è stato sottoposto a cisto prostato vescicolettomia è perché ci poteva essere un sospetto al momento dell'intervento di un coinvolgimento anche della prostata oltre che della vescica da un punto di vista di patologia quindi viene tenuta sotto controllo in questo modo viene tenuto anche se non c'è più la prostata ovviamente il PSA serve quando c'è un magari un tumore alla prostata anche operato serve per il cosiddetto follow up cioè per controllare i pazienti nel tempo che non ci sia una ripresa di malattia l'ultima domanda ci arriva per Whatsapp vorrei sapere se un farmaco ha un antidisfunzione erettile in un maschio che non ha problemi erettivi può accorciare il periodo refrattario dunque oggi tu domanda domanda allora che pubblico allora la domanda che viene fatta presuppone allora perché il nostro telespettatore ci ha detto se un farmaco che aiuta l'erezione può allungare il cosiddetto periodo refrattario relativo del maschio spieghiamo cos'è il periodo refrattario relativo del maschio cioè dopo un rapporto sessuale noi uomini a differenza di voi donne necessitiamo per poter riavere una erezione e un orgasmo di un determinato lasso di tempo che dipende dai soggetti dall'età ci sono tanti fattori ovviamente un farmaco che migliora la qualità la qualità dell'erezione non è che accorcia o allunga il periodo refrattario da questo punto di vista sicuramente fa sì che il pene nel momento in cui ha espletato la sua funzione quindi con l'eiaculazione e con l'orgasmo sia se è ancora in circolo questo farmaco sia un po' più responsivo a eventuali stimolazioni da questo punto di vista però non è che va ad agire in maniera chiamiamola così matematica allungando o accorciando questo periodo fa sì che il pene mantenga un tono diciamo maggiore della norma anche dopo che c'è stata la eiaculazione grazie grazie al professor Natali come sempre molto preciso e poi che bel pubblico oggi che belle domande oggi veramente molto acculturato complimenti per il vostro pubblico grazie noi ci fermiamo qui ma lo sapete ormai solo per i consigli pubblicitari e la pagina che riguarda il meteo le previsioni per domani e prossimi giorni poi torneremo qui in diretta grazie a tutti grazie a tutti